Conto alla rovescia Pistoia per la terza edizione di Arts & Craft, la fiera promossa da CNA e Confartigianato avrà come location la cattedrale dell'ex Breda e il centro Pistoia Fiere che da giovedì 22 a domenica 25 ottobre diventeranno vetrina del mondo dell'artigianato, non solo pistoiese. Tra le novità c'è sicuramente questo grande legame, questo legame ancora più forte che si è creato con il territorio che si sta proponendo a 360 gradi, quindi artigianato di qualità, manifatturiero non seriale, agroalimentare, eccellenze dell'abitare sostenibile, del risparmio energetico, ma anche un grande legame con il territorio, ad esempio con gli ordini professionali, ma anche la novità forte di quest'anno con il distretto vivaistico e con le sue eccellenze. Infatti abbiamo cercato di valorizzare sia la qualità dell'abitare interno ma sia anche la qualità dell'abitare esterno e quindi i giardini e le nostre eccellenze del florovivaismo pistoiese. L'obiettivo è valorizzare e far conoscere prodotti e produttori di qualità che operano sul territorio, dando vita ad un momento di riflessione ed analisi del settore. Non mancheranno infatti occasioni di dibattito con un'attenzione rivolta anche al mondo delle tradizioni gastronomiche che in questa edizione di Arts & Craft si declineranno nel linguaggio dello street food. È una scommessa nuova, è una delle scommesse di quest'anno. Vediamo come risponde. L'unico problema che ci stiamo apprestando a risolvere è quello del tempo, perché lo street food sì è tempo bello, le previsioni sono buone, però abbiamo visto come negli ultimi giorni il tempo ci ha portato anche dei danni non indifferenti. Quindi vogliamo evitare quello, quindi stiamo inventandoci il sistema nuovo dello street food.